incendio doloso affano tv un uomo ha dato fuoco all'ingresso dell'emittente televisiva nessun ferito la procura di pesaro ha aperto un'inchiesta sgomento indignazione e rabbia ma anche sostegno e affetto ci sono tutte le gambe le sfumature dei sentimenti che in una vicenda come un atto così violento per il significato intrinseco che porta possono essere contemplate rai tre marche titola nel sommario e riporta nel tg delle 13 ed in quello della sera quanto accaduto dopo la rassegna stampa di questa mattina il tentame mediatico su quanto accaduto affano tv ha attraversato anche i confini regionali ed arrivato agli organi di stampa nazionali dall'onorevole lara ricciatti giunge in redazione prestissimo il suo messaggio di condanna con l'augurio che il responsabile venga presto assicurato alla giustizia il sito di repubblica online edizione di bologna riporta l'episodio anche altre testate online riferiscono nelle aperture del mattino la vicenda dell'incappucciato piromane compresa l'ansa il corriere adriatico il carlino il messaggero parlano di assalto incendiario come anche i siti locali che oltre che riportare l'accaduto attraverso le redazioni esprimono solidarietà all'emittente e come hanno fatto anche vera tv e onda libera e i siti web locali quando avviene un atto di intimidazione come questo ad una emittente come fanno tv che presta dal mio punto di vista ma non soltanto dal mio un servizio pubblico perché dà informazione e fra l'altro è un servizio molto apprezzato dalla città sono atti che vanno condannati senza sé e senza me come sindaco mi sento molto vicino a fanno tv e quando dico fanno tv dico tutti anche tutte le persone penso di esprimere anche il pensiero dell'intera comunità di fanno i sindaci del territorio da san lorenzo in campo a pergola hanno mandato messaggi per esprimere il loro sconcerto il vicepresidente del consiglio regionale delle marche renato claudio minardi si è voluto accertare personalmente di quanto accaduto visitando la sede in via borsellino e ha espresso solidarietà e rammarico per quanto accaduto a nome della regione marche come ha fatto anche un altro consigliere regionale boris rapa ma il mondo politico tutto ha espresso solidarietà a fanno tv con messaggi di profondo appoggio e condanna verso il responsabile di questo gesto le mail di redazione i telefoni aziendali e personali di ognuno della redazione sono stati inondati di messaggi per tutta la giornata uno dei primi a giungere in redazione poco dopo le nove quello dell'assessore mascarin come pure anche cristian fanesi ma tutta la giunta il consiglio nell'arco della mattinata dal centro destra al centro sinistra ai 5 stelle ha espresso un caloroso appoggio e tanta solidarietà alla redazione con una locuzione che spicca su tutte quelle espresse vile atto le associazioni locali anche mandano per voce dei loro rappresentanti appoggio e solidarietà come l'umpli per voce del suo presidente damiano bartocetti ma poi ci sono lungo il corso di tutta la giornata tutti i nostri telespettatori tantissimi che utilizzando ogni supporto immaginabile dai siti web ai social facebook e twitter si sono dati un grande affare ad esprimere tutto il loro sentimento il calore e il supporto di questo lungo giorno dopo di fano tv